Trovare fondi che consentano la costruzione di un nuovo ponte e pedonalizzare finalmente Ponte Buriano, il ponte romanico che Leonardo da Vinci ha scelto per lo sfondo della sua gioconda. Sarebbe questo il risultato dell'incontro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Presidente della provincia di Arezzo Silvia Chiassai e tutti i soggetti coinvolti nell'operazione di Ponte Buriano. Dopo una lunga disquisizione, afferma la Chiassai, siamo giunti ad una svolta per Ponte Buriano. Sono soddisfatta di questo incontro in cui tutti i soggetti al tavolo hanno espresso il proprio consenso per trovare una soluzione concreta che investe le infrastrutture del territorio ma anche la nostra economia. Un passo in avanti importante, concordato e condiviso anche con gli enti presenti, naturalmente anche dall'assessore Ceccarelli. Sono soddisfatta perché tutti i presenti hanno compreso l'importanza di un intervento complessivo che preveda lo stanziamento di fondi per il ponte provvisorio per risolvere i problemi di viabilità dei mezzi pesanti ed iniziare subito la progettazione e successivamente la realizzazione del ponte definitivo oltre al restauro del manufatto storico Ponte Buriano appunto che verrà destinato solo al passaggio pedonale.